Un paio di ali conducono sempre alla Vittoria. Un soggetto antichissimo, e che più spesso ritorna nella storia dell'arte, ma con poche varianti. La Niche, dea alata della Vittoria. Era una delle divinità greche scolpite in marmopario, attribuita a Pitocrito e realizzata probabilmente a Rodi. La statua, originariamente, era collocata nel Santuario dei Cabiri, ovvero delle enigmatiche divinità dell'Oltretomba, sull'isola di Samotracia, per commemorare una vittoria navale riportata dagli abitanti di Rodi alla fine del III secolo a.C. È un esempio magistrale di statuaria collocata all'aria aperta. Simboleggia un momento da ricordare, e per questo motivo ha avuto grande fortuna come soggetto artistico in tutta la storia dell'arte occidentale. La troviamo nella pittura vascolare, nei bassorilievi, nelle sculture e anche sulle monete. I romani riprendono dal periodo ellenistico il tipo della Niche, senza elaborare ulteriori cambiamenti. Un esempio è l'altare della vittoria voluto dall'imperatore Augusto nel 29 a.C., eretto nella sede del senato romano, la Curia Iulia. Dopo secoli di dibattiti e di posizioni discordanti, perché simbolo pagano appartenente ad un'altra civiltà, l'imperatore Costanzo la fece rimuovere nel 357 d.C. In molte raffigurazioni cristiane, invece, gli stessi atti della Niche sono trasferiti alla figura dell'angelo. E andando avanti nella storia, in epoca più recente, uno dei monumenti più famosi di Berlino è la Colonna della Vittoria. La colonna fu progettata nel 1864 da Heinrich Strach, per commemorare la vittoria della Prussia nella guerra contro i danesi. Venne aggiunta nel 1873, due anni dopo l'Unione della Germania, il cosiddetto Secondo Impero, una scultura di bronzo della Dea Alata, alta 8,3 metri e pesante 35 tonnellate. Tutt'altro che leggera, ma quelle 35 tonnellate di peso non le dimostra per niente. Lo scultore restituisce ai nostri occhi una figura leggera. La principale caratteristica della Niche è la rapidità del volo, raffigurata nel cosiddetto schema della corsa in ginocchio. Uno scatto verso in avanti in velocità. È un tratto tipico che ritroviamo frequentemente fino all'età contemporanea. Altra caratteristica è la sua leggerezza. Le lunghe vesti svolazzanti rendono il corpo della stessa consistenza dell'aria. Vorticosi movimenti gonfiano la veste come delle vele. Una sintesi di velocità e senso di movimento nel rapporto fra corpo e spazio che non poteva non coinvolgere il futurismo. Basta guardare forme uniche della continuità nello spazio di Boccioni. Una statuetta che raffigura un uomo controvento avvolto dal suo abito svolazzante. Oppure lo stesso esponente del movimento futurista, Marinetti, che urla che un'automobile ruggente è più bella della vittoria di Samotracia. Forse si riferiva alla sua isottafraschini. Pensate che quest'auto valeva moltissimo. Avere un'isottafraschini ai tempi equivale a possedere un piccolo oggetto oggi. Cosa fa Marinetti? La compra, poco tempo dopo va fuori Milano, corre e per evitare due persone in bicicletta finisce in un fosso. Questa passione per la velocità non va attribuita esclusivamente ai futuristi. Sarebbe riduttivo. Perché il non futurista per eccellenza, Gabriele D'Annunzio, aveva la passione per gli aeroplani. Altro simbolo della modernità, che in un certo senso rimanda anche alla Nike, ma non li sa pilotare. L'unica volta che va in aereo, spara con la mitragliatrice e di rinculo gli rientra in un occhio e si ferisce. E questa è stata la sua unica ferita di guerra. In questi aneddoti sicuramente possiamo rintracciare la descrizione dell'italianità, in un certo senso ironica, e che ci racconta quell'entusiasmo che si combina con l'incapacità di saper usare i mezzi della modernità. Questo momento coincide con la nascita delle avanguardie. La velocità, la leggerezza e la libertà si manifestano anche nel mondo del cinema, attraverso continui rimandi alla Nike, a quel corpo femminile che si libra nell'aria. Come nel film Cenerentola a Parigi del 1957 con Audrey Hepburn. Ma l'immagine che tutti noi conosciamo è la prima che ci viene in mente quando parliamo del Titanic, un amore che fa volare due amanti. Per concludere il nostro brevissimo percorso storico sulla dealata, non possiamo dimenticare il mondo dello sport. Nel 1969 una studentessa d'arte dell'Università di Portland, per soli 35 dollari, disegnò per una società che ancora oggi produce scarpe da ginnastica e vestiti sportivi un baffo, il cosiddetto swoosh, che è una vera e propria ala. Nasce il più celebre marchio sportivo al mondo, la Nike, per gli americani, per i greci rimane Nike e per noi discendenti dai rumani Vittoria. Ecco uno dei tantissimi percorsi dell'opera d'arte dove si manifesta quel mistero, perché l'opera ha la forza di trasformare la nostra mente attraverso un contatto diretto. Quando spesso andiamo nei musei di arte contemporanea, e sono d'accordo che non tutti sono utili, però con un po' più di attenzione possiamo accorgerci della funzione che l'arte esercita sulla vita dell'uomo. Le opere d'arte hanno una funzione trainante per la nostra mente, che ci porta a scoprire orizzonti che prima non avevamo mai visto. L'arte ha la forza di creare un cambiamento nella nostra psiche, ha sempre il potere di progettare il mondo di domani, e tocca a noi sapere usare la mente, riflettere e creare il nostro mondo, perché se lo lasciamo in mano agli altri finisce male. Questo potere ce lo hanno gli architetti, i filosofi, gli artisti e tutti i lavoratori che non fanno parte del mondo della cultura in sesso stretto. Come sarebbe bello se anche i politici sfruttassero questa forza. Un caro saluto e buon'arte a tutti.